Rosalia Manosperti e Antonio Mirabile sono stati ascoltati per due ore. La polizia di Palermo sta cercando di ricostruire i luoghi frequentati. Una settimana dopo i funerali del figlio a Palermo, Rosalia Manosperti e Antonio Mirabile, i genitori di Andrea, il bimbo di sei anni morto durante una vacanza a Charm e la Sheik, sono stati interrogati dalla polizia. La polizia di Palermo sta ricostruendo quanto fatto dalla famiglia del bimbo morto a Charm. La sezione omicidi della squadra mobile di Palermo, su delega della procura, sta provando a ricostruire quanto fatto dalla famiglia prima che Andrea Mirabile e il padre Antonio, ricoverato per diversi giorni in ospedale, si sentissero ma si ricerca la causa del decesso in un'intossicazione ambientale o da contatto. La polizia sta indagando sui luoghi che la famiglia ha frequentato e su quello che ha mangiato. Inizialmente si riteneva infatti che il decesso di Andrea fosse stato provocato da un'intossicazione alimentare, ma, secondo i medici del Policlinico di Palermo, dove il bimbo è stato trasportato dall'Egitto, la causa della morte potrebbe anche essere ricercata in un'intossicazione ambientale o da contatto. La famiglia si è rivolta alla guardia medica locale, Rosalia Manosperti e Antonio Mirabile sono stati ascoltati separatamente per due o, la madre, incinta di cinque mesi, è apparsa ancora molto provata. La coppia avrebbe riferito di essersi rivolta alla guardia medica locale, che avrebbe parlato di intossicazione alimentare, dopo essersi sentita male di non aver mai mangiato fuori dal resort di Charmelle Sheik in cui alloggiava. Nessun altro ospite della struttura avrebbe accusato però gli stessi sintomi della famiglia siciliana. Prima di trarre qualunque conclusione dobbiamo attendere gli esiti dell'autopsia, hanno dichiarato illegali della coppia.